Alessandro Bassoni, soddisfatto di questa partita contro il Sassuolo, vittoria che è valsa la qualificazione ai quarti di finale della Team Cup? Sì, sono molto soddisfatto sia della vittoria che della prestazione, sia di scuola che personale, è stata una bella gara a frutto di tanti allenamenti fatti bene, anche se non giochiamo tanto dobbiamo sempre farci trovare pronti. Ecco appunto è stata una partita anche per voi che siete meno impiegati in campionato in Europa League per insomma dire ci siamo e siamo bravi. Sì assolutamente ringraziamo il mister per questo, sappiamo che la Coppa Italia è una competizione dove comunque possono giocare quelli che gioca meno e l'importante è come abbiamo fatto oggi è farsi trovare pronti. Soddisfatto della tua prestazione e della prestazione di squadra? Sì sì molto soddisfatto sia della prestazione che del risultato che è arrivato. E poi lo sai che anche la Primavera ha vinto quindi quest'oggi è in plan di successi in Coppa Italia per le due maggiori squadre atalantine. Sì sì sono molto contento anche per loro sia che vado a giocare in Primavera che in prima squadra, la maglia dell'Atalanta è sempre la stessa e darò sempre il massimo.